Alessandro Malaguti, come hai scoperto la bici e a che età hai iniziato a gareggiare? Ho iniziato da G3 perché c'era mio fratello che ha fatto il direttante i primi due anni, poi ha smesso e ha aiutato a mettere su una squadra nel mio paese a Forlì, la società ciclistica forlivese, era direttore sportivo degli esordienti e andando a vedere una gara dei suoi ragazzini mi è venuta voglia di iniziare. Chi era il tuo idolo quando eri bambino? Paolo Bettini è sempre stato il mio idolo, me lo ricordo già da quando era dilettante, quando fece quarta ai mondiali Under 23 e da quel giorno lì ho iniziato a seguirlo, ho seguito tutta la sua carriera. La corsa che hai sempre sognato vincere? Sicuramente la Paris-Giroubaix, è il mio grande sogno, mi basterebbe già correrla e arrivare al velodromo però sicuramente quella è la corsa dei miei sogni. Alessandro, da dilettante hai vinto una corsa internazionale battendo Adriano Malori, che ricordo hai di quel giorno? Era il Gran Premio San Giuseppe? Parlando ancora mi vengono i brividi perché è stata una giornata speciale, non me l'aspettavo, sapevo di star bene ma vincere una gara del genere mi ha dato molta fiducia nei miei mezzi, è una giornata spettacolare, mi è andato tutto bene, sono riuscito a gestire bene anche con un mio compagno di squadra, Campagnaro, che mi ha aiutato tantissimo e alla fine sono riuscito a vincere. Alessandro, ti hai gustato la vittoria anche tra i professionisti? Sì, avevo già vinto veramente al primo anno all'Hotel in Uruguay, la realtà ciclistica dell'Uruguay, però una corsa minore, l'anno scorso invece finalmente in Europa ho vinto in Francia, una bella corsa alla ruta dell'IDV3, ho anticipato nel finale gli ultimi 300 metri e sono riuscito ad arrivare a braccialzate. Dove pensi di poter crescere ancora come atleta? Sicuramente devo migliorare ancora un po' in salita, le mie corse sono quelle nervose, le gare di un giorno, i miei percorsi ideali sono quelli di Francia e Belgio, per cui spero di poter un giorno dimostrare di essere un corridore da quelle corse là. Alessandro, parliamo della tua nuova avventura con la Vini Fantini Nippo De Rosa. Sì, nuova squadra, un clima familiare, però comunque c'è molta professionalità, una bella scommessa da parte del direttore Stefano Giuliani, di Rocco Menna e anche di Valentino Sciotti, lo sponsor. Diciamo che stiamo già lavorando molto bene, il clima è l'ideale per lavorare e sono veramente felice di essere qui. Cosa ti ha insegnato la bicicletta? La bicicletta mi ha insegnato tutto, a faticare, a non mollare mai, a passare sopra a eventuali problemi che si presentano nella vita quotidiana e tutti i giorni. Sicuramente un insegnamento che fa benissimo ai ragazzini per chi vuole iniziare. Ecco, momento non facile per il ciclismo. Cosa consiglia ai bambini che si avvicinano a questo sport? Di farlo con passione e pensare a loro stessi, a migliorare se stessi, perché il ciclismo prima di tutto deve essere una lotta a migliorare se stessi e poi arriva il confronto con gli altri e rendersi conto che comunque non tutti si può diventare campioni e certe strade non sono da percorrere. Grazie. 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 Grazie.